tempo era di 1.3575 nel primo gol parte la lucca questa cavalla puro sangue araba colore sauro molto tecnica lui guida ad una mano il controllo nel barrel e a casa si prepara anche alessandro pendenza su priata allora manduri su perle su black di vallandini poi la laura marcini tecnicolo tecnico lo sai del pazzo è qui a distanza la distensione di la lucca la lucca la lucca in un tempo di 1.28.00 1.28.00 per ero scappò che sulla lucca la lucca la lucca la lucca